Le statistiche non mentono e riferiscono di un anomalo boom di incidenti nel territorio di Bustarsizio dall'inizio dell'autunno. Il perché è un mistero o comunque è possibile dare alcune spiegazioni che non danno però la risposta definitiva al problema. C'è chi contesta i troppi stop con parcheggi regolari vicini alla linea di missione. Poi c'è la situazione del Viale della Gloria dove l'innesto delle nuove rotonde ha reso il traffico più fluido e quindi non si spezza mai e non permette a chi deve attraversare di uscire. Di sicuro l'incremento degli incidenti è un problema serio con cui fare i conti.